...paragone, però dobbiamo rispettare i valori delle altre squadre. Loro già sono squadra, ma dobbiamo diventarlo. E nella squadra la costruirono, penso c'è già, anzi, soffermano tutti i maschi, per sapere che quattro chiedi sono questo, la prima, 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 la prima. ...promaticamente. Sta per finire la parentesi di Sardegna e l'Inter, domani trasferimento all'urigo, mentre la squadra la volante.